Di nuovo insieme con Milano Pavia News, benvenuti all'edizione Pavia. I titoli. Non basta pulsante d'emergenza per garantire sicurezza agli autisti dei bus. I sindacati chiedono ulteriore protezione al posto di guida dopo l'incontro in prefettura. Sono delusi i residenti di Pavia Ovest. Sentono inascoltata la loro battaglia per evitare cementificazioni nel quartiere. Domani in nuova assemblea si chiede l'intervento della politica. Partirà da lunedì un mese di asfaltature inviaturati tra Pavia e San Martino. Si inizia dal lato dei ristoranti, carreggiata ristretta ma garantito il transito ad auto e furgoni. Si arrivati al ricorso a Tara contro il progetto della cava di Nerti nei pressi di Bressana, nell'area golenare del Po, comune e comitati preoccupati per traffico e impatto idrogeologico. 2.000 abitanti, 100 sono albanesi, a Lomello una comunità integrata, giunta la seconda generazione. Oggi giornata di festa per l'arrivo in paese del console del paese delle Aquile. Ieri pomeriggio l'incontro in prefettura per cercare di aumentare la sicurezza degli autisti dei bus dopo le diverse aggressioni che sono avvenute in provincia di Pavia. accolte molte di quelle che erano le richieste dei sindacati che però oggi puntualizzano così non basta perché non si è ancora affrontato l'elemento di rimente, cioè la protezione fisica del posto di guida degli autisti. Uno sforzo chiaro e trasparente da parte delle istituzioni che stanno facendo il possibile per trovare una soluzione, mentre finora non possiamo dire altrettanto di autoguidovie a cui chiediamo da tempo di mettere in sicurezza la postazione degli autisti. Così il segretario della CISL di Pavia, Gaetano Di Capo, all'indomani dell'incontro in prefettura che ha sancito le nuove misure da adottare per provare ad evitare e ripetersi delle aggressioni ai conducenti, come quelle numerose accadute negli ultimi mesi. Tra queste l'installazione di pulsanti per l'SOS collegati alle forze dell'ordine e alla stessa compagnia di trasporti, più controlli all'interno dell'autostazione, in particolare di sera, e più videocamere di sorveglianza. Oltre a mettere in sicurezza il posto di guida, autoguidovie dovrebbe dedicare il personale di ditte esterne per il controllo dei biglietti. Gli autisti devono già preoccuparsi di guidare, conclude la CISL. Secondo la UIL, si tratta di un primo passo verso una maggiore sicurezza per i lavoratori, ma ancora insufficiente. Bisogna aumentare i controlli delle forze dell'ordine, magari a campione sui mezzi, spiega Carlo Barbieri della UIL, ma anche a recuperare la capacità di educare i giovani, magari aumentando l'educazione civica nelle scuole. Per Sergio Antonini della CGL, infine, è un buon segnale che autoguidovie e le istituzioni prendano in considerazione misure che erano state proposte da tempo, a favore della sicurezza dei lavoratori e dell'utenza. Sono delusi dalle risposte della politica, anzi, si sentono proprio inascoltati residenti di Pavia Ovest che si battono contro le cementificazioni nel quartiere, ma ancora non si arrendono e domani si riuniranno in assemblea. C'è amarezza ma non rassegnazione tra i cittadini di Pavia Ovest che, nonostante le tante battaglie per impedire nuove costruzioni, dovranno ora attendere la discussione del PGT in Consiglio Comunale per capire cosa succederà nel loro quartiere nei prossimi mesi. La variante al piano di governo del territorio è stata adottata a gennaio e ci sarà tempo fino al 24 aprile per presentare proposte di modifica. In questa parte della città i temi caldi riguardano la lottizzazione di via Marangoni, per la quale in realtà basterà un passaggio in giunta, e l'ipotesi di costruire un maneggio in zona Chiozzo, progetto sul quale però l'amministrazione ha frenato nelle scorse settimane. Tutto il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi, raccolte firme, siti in, articoli sui giornali, presenze in Consiglio Comunale, commissioni, eccetera, praticamente tutto buttato alle ortiche, se così possiamo dire. Non perdiamo la speranza nel portare avanti ancora la nostra battaglia civica. Chiediamo ancora una volta un incontro che possa essere un incontro costruttivo, perché da quello che è stato detto ieri sera, la scheda Marangoni, quindi questo PGT, non verrà neanche passato in Consiglio Comunale, perché se verrà approvato questo famoso PGT, allora tutto passerà così. Sabato al centro Cazzamali, in via Fratelli Cervi, si terrà un'assemblea organizzata dalla rete Comitati per Pavia, alla quale sono invitati tutti i residenti di Pavia Ovest. Un'occasione, spiegano gli organizzatori, anche per discutere dei problemi e delle necessità del quartiere. Noi domani abbiamo organizzato questa assemblea cittadina perché sappiamo che, insomma, se vogliamo tutelare il nostro quartiere non possiamo semplicemente aspettare che qualcuno lo faccia per noi, quindi è un momento per incontrarci, conoscerci, mettere a fattore comune le diverse iniziative che abbiamo intrapreso, che stiamo intraprendendo, e fare rete tra di noi sostanzialmente. Quindi parleremo appunto di via Marangoni, parleremo della situazione del Chiozzo, parleremo di tutta la zona del Rione Pelizza, con i suoi tanti parchi, alcuni inagibili, con la sua zona, come dire, quasi dormitorio senza servizi e altre attività e dinamiche che stanno succedendo nel nostro quartiere. Siamo arrivati al ricorso al Tara adesso per il progetto di una cava di inerti in un'area golenale del Po, non lontana da Bressana a Buttaroni, in un'area che però è di competenza del comune di Cava Manara e questo è uno degli elementi che, a dire, dei comuni circostanti e dei comitati sta creando problemi. La battaglia, iniziata ormai sei anni fa, non sembra destinata a finire a breve. Siamo nella golenale del Po, in un lembo di terra di Cava Manara, sulla sponda destra del fiume, a ridosso del centro abitato di Bressana a Buttarone. È qui che la provincia di Pavia, dopo un iter lungo e contorto, ha approvato la creazione di una cava di inerti contro la quale i comitati ambientalisti e lo stesso comune battagliano da tempo e che, nei giorni scorsi, è stata oggetto di un ricorso al Tar. Troppi punti critici del progetto, secondo il comune, a cominciare dal problema del traffico di mezzi pesanti che, contrariamente alle prescrizioni della stessa provincia, dovrebbe passare attraverso la passeggiata di Viale Resistenza e nel centro del paese per raggiungere poi l'ex statale dei Giovi e le autostrade. Se a questo si aggiunge il fatto che le compensazioni economiche andrebbero tutte al comune di Cava Manara, dall'altra parte del fiume, si può capire il disappunto di Bressana. Pur essendo il territorio dove siamo adesso, nel territorio di Cava Manara, i mezzi che andranno a svolgere la loro attività per portare il materiale da e per la cava attraverseranno il centro abitato di Bressana. Anche se, fin dall'inizio, nella scheda del piano Cava della provincia di Pavia, questa Cava, che viene denominata Ate G74, c'è scritto chiaramente che i camion da e per la Cava non devono passare dal centro abitato di Bressana. Eppure questo aspetto non è stato minimamente considerato perché fin dalla prima proposizione del progetto da parte dell'imprenditore c'è scritto chiaramente che i camion passeranno sul nostro territorio. Noi diciamo soltanto che non possiamo tollerare uno l'attraversamento dei camion da Bressana in quanto sia per la salute, perché non voglio immaginare tutte le polveri che lasceranno, tutto quello che il vento poi porterà diciamo in giro per il paese e quindi un primo punto. C'è quindi anche un discorso di vivibilità e poi tutto quello che ci ricade a noi sulle nostre strade, naturalmente la manutenzione e quant'altro. Tralasciando i forti dubbi sull'Itera stesso e il progetto secondo il Comune, inoltre cozza con l'indirizzo turistico e ambientale che si sta faticosamente dando a queste terre lungo il Po, per esempio con ingenti investimenti per la creazione di piste ciclabili. Abbiamo passato un progetto per partecipare a un bando per fare una pista ciclabile che proprio passa da questi luoghi per valorizzare il territorio dell'Oltre Po che parte dal ponte della Becca per arrivare non al ponte di Bressana ma andare ben oltre, attraversare quindi andare anche fino a Cassegirola e congiungersi con la Greenway e con la ciclovia Vento. Quindi noi stiamo parlando di un territorio da valorizzare che invece viene deturpato da questa attività. I comuni limitrofi a Valle dell'Impianto avrebbero inoltre espresso preoccupazione per l'aspetto idrogeologico legato all'intervento. Torniamo a Pavia per una segnalazione che ci arriva dalla zona di Piazzale Europa. Siamo andati a vedere. Una discarica a cielo aperto a due passi dal fiume e proprio di fronte al comando della Polizia Locale di Pavia non è di certo una novità visto che da tempo molti cittadini lamentano lo stato di degrado e incuria della passeggiata che costeggia il Campo Nomadi ed il Ticino. Venerdì mattina abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo su segnalazione di due cittadini che abitualmente utilizzano il tracciato per passeggiare lungo il fiume in mezzo alla natura. Il canale situato tra il comando della Polizia Locale di Viale Resistenza e Palazzo Esposizioni non ha bisogno di particolari descrizioni. Soltanto la presenza di una fitta vegetazione nasconde in parte la discarica a cielo aperto che si è venuta a creare nel tempo. Guardando in giù si possono vedere rifiuti di ogni tipo persino una di quelle macchine a pedali utilizzate dai bambini adagiata sulla sponda. Una situazione figlia di due fattori l'inciviltà delle persone da una parte e la mancanza di interventi di pulizia dall'altra. Il degrado non risparmia nemmeno la pista ciclabile intitolata Carlo Saglio. L'incuria è piuttosto evidente. Delle protezioni in legno, come si può vedere dalle immagini, resta ben poco in piedi. La speranza, come spiegato da alcuni cittadini, è che i fondi del waterfront possano contribuire a ridare dignità alla zona. 16 milioni di euro ottenuti grazie ad un finanziamento europeo proprio per riqualificare la sponda sinistra del Ticino. Circa 4 milioni del finanziamento dovrebbero infatti essere dedicati alla sistemazione dei percorsi ciclabili che si snodano lungo il fiume. Una notizia per gli automobilisti. Da lunedì partiranno le asfaltature di via Turati tra Pavia e San Martino. Dureranno un mese. Nel servizio tutti i dettagli. Partiranno lunedì 3 aprile i lavori di asfaltatura lungo via Turati a San Martino Siccomario, la strada che porta all'ingresso di Pavia dalla Lomellina e dall'Oltrepò. Non ci sarà un senso unico alternato ma verrà semplicemente ristretta la carreggiata per permettere agli operai di lavorare. Le auto potranno quindi transitare normalmente e nell'area del cantiere verrà istituito il limite a 30 km orari. Sì, siamo arrivate alle battute finali del cantiere. Finalmente, un cantiere molto lungo. Ci aspettavamo tempi più rapidi. Purtroppo l'impresa ci ha portato a questi tempi qua ma a questo punto la cosa importante è capire come gestire bene il periodo che vada dal 3 aprile diciamo sostanzialmente sino all'inizio di maggio perché lì inizierà i lavori di asfaltatura completa della viabilità di via Turati. Attualmente l'impostazione che ha scelto l'impresa insieme agli uffici è quella di fare un'asfaltatura per ogni senso di marcia in due momenti lasciando sempre libera una corsia di 2,20 m per il traffico leggero in modo tale che non venga mai bloccato il traffico. Chiaramente verrà portato un divieto transitorio di cantiere a 30 km all'ora per tutto il tratto interessato. Si partirà dal lato cosiddetto delle ristorazioni quindi sul lato da cui vi sto parlando in questo momento per le prime due settimane e poi nelle due settimane successive si andrà a lavorare sul lato che viene chiamato in termine volgare il lato delle concessionarie. I lavori dovrebbero concludersi entro l'inizio di maggio le uniche limitazioni riguarderanno i mezzi pesanti che dovranno utilizzare percorsi alternativi verrà comunque garantito l'accesso alle aree commerciali e artigianali chiediamo pazienza a tutti gli automobilisti spiega il sindaco Zocca perché nonostante tutte le attenzioni prese i disagi saranno inevitabili. L'unica attenzione che abbiamo avuto è legata al traffico pesante che non potrà transitare in quel periodo nei primi 15 giorni nel senso di marcia da Pavia verso Voghera e negli ultimi 15 giorni nel tratto inverso nel pezzettino della statale per la percorrenza da sud verso il capoluogo. Ecco, il traffico pesante chi è diretto all'interno del capoluogo avrà la possibilità di mettersi d'accordo con il cantiere e le forze di polizia locale per gestire l'ingresso dei mezzi di plan di cantieri perché verrà gestito con apposite interruzioni verranno aperte i varchi intermedi che attualmente volutamente non sono ancora stati completati e attraverso di quelli verranno fatte delle manovre per permettere al traffico pesante di aggiungere l'area commerciale. È un'attità molto delicata per cui chiediamo veramente la collaborazione di tutti perché sarà una situazione comunque in cui serve veramente molta attenzione per una corretta gestione della cosa pubblica. Primi interrogatori in merito alla vicenda della sparizione della lettera di dimissioni del consigliere comunale di Fratelli d'Italia vigevano Riccardo Capelli avvenuta il 30 novembre scorso durante la convulsa mattinata in cui diversi consiglieri tentarono di far cadere la giunta presentando dimissioni collettive. Alcuni consiglieri comunali di opposizione sarebbero stati sentiti in questi giorni dai carabinieri in quanto persone informate sui fatti. Capelli aveva fatto certificare le sue dimissioni da un notaio ma dopo un ripensamento si era presentato all'ufficio protocollo del comune per chiedere che il documento non venisse registrato. Durante la discussione la lettera sparì. Il prefetto di Pavia decise di annullare l'intera procedura a provvedimento confermato da una prima sentenza del Tar contro la quale il consigliere Furio Suvilla ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Un'operazione della Guardia di Finanza qualche tempo fa aveva portato allo scoperto un presunto giro di fatture false in Lomellina emesse anche da Onlus e Cooperative Sociali c'è stato un primo passaggio in Tribunale. Oltre un milione di euro di fatture false per evadere le imposte è questa l'accusa da cui dovranno difendersi sette persone ex titolari o amministratori di società vigevanesi o Lomelline fra cui Cooperative Sociali e Onlus per le quali nelle scorse ore si è chiusa l'udienza preliminare. Due di loro hanno patteggiato mentre altre due hanno chiesto il rito abbreviato con la prima udienza che si terrà il prossimo 10 maggio le altre tre invece sono state rinviate a giudizio per loro il processo per frode fiscale si aprirà a giugno gli imputati secondo la ricostruzione della procura avrebbero emesso fatture false per simulare l'acquisto di beni o servizi da parte di altre società che avrebbero così potuto beneficiare delle detrazioni di imposta e dei crediti IVA tra le attività coinvolte anche una società di volley della Lomellina che secondo l'accusa avrebbe emesso oltre 200 mila euro di fatture false Nel salto pomeriggio di lunedì a Vigevano tornerà a riunirsi il consiglio comunale vista la situazione politica in città è un appuntamento che sta diventando piuttosto atteso C'è un problema nel servizio vedremo di recuperarlo più tardi ora la notizia del rinvio della visita che era prevista per domani sabato mattina al liceo Foscolo di Pavia del ministro Valditare verano anche annunciate contestazioni che a questo punto probabilmente saranno rinviate anch'esse è stata spostata lunedì 8 maggio la visita del ministro dell'istituzione Giuseppe Valditara al liceo classico Foscolo di Pavia inizialmente prevista per sabato 1 aprile il rinvio è dovuto a un problema di salute del ministro che è quindi dovuto posticipare l'incontro la visita organizzata per inaugurare l'auditorium della scuola si preannuncia come un'occasione per una dura contestazione da parte degli studenti nei giorni scorsi alcuni ragazzi che frequentano il foscolo e l'unione degli studenti di Pavia hanno diffuso due comunicati in cui si parla di passerella politica di un ministro che non ha mai trovato il tempo per un reale confronto studentesco che sembra voler evitare a tutti i costi nei corridoi del liceo sono anche comparsi degli adesivi che promuovevano uno sciopero indetto per il primo aprile dagli stessi ragazzi sciopero che a questo punto verrà probabilmente a sua volta spostato all'8 maggio il foscolo è una scuola vetrina solo per gli incontri istituzionali si legge nel comunicato dell'unione degli studenti la verità è che cade a pezzi aule minuscole edilizia fatiscente insufficienza energetica abbandono scolastico e stress la scuola vetrina è in frantumi assieme all'intero sistema scolastico sottolineano i ragazzi che chiedono anche la possibilità di convocare un'assemblea in occasione della visita istituzionale durante la quale poter fare domande al ministro Valditara a Lomello è presente una folta comunità albanese e oggi c'è stata una visita del console generale d'Albania proprio a Lomello le immagini si è rinnovata l'amicizia tra la comunità albanese e Lomello l'occasione è stata la visita del console generale della Repubblica d'Albania a Nila Poiani al centro Lomellino guidato da Silvia Ruggia il console dopo aver incontrato le scuole ha visitato il museo degli stucchi della Basilica di Santa Maria Maggiore il castello Crivelli e successivamente ha salutato alcuni rappresentanti della cittadinanza albanese è un'esperienza meravigliosa tutta l'Italia è il numero uno dei patrimoni di UNESCO ma averlo una cosa così che risale a tanto tempo fa così vicino a Milano veramente una scoperta è un'esperienza bellissima per noi abbiamo pensato questa iniziativa proprio perché alcuni anni fa la comunità alcuni albanesi sono venuti ad abitare qui da noi già questi di seconda generazione si sono ben inseriti nella comunità e quindi noi siamo contenti lavorano insomma hanno un buon un buon risultato è un segno di amicizia di inserimento di collaborazione folta la partecipazione all'incontro che si è svolto in piazza San Rocco a Lomello i cittadini albanesi sono circa un centinaio e tutti sono ormai perfettamente integrati quando siete arrivati? allora quasi 20 anni io ho quasi 20 anni ok come è stato vivere all'inizio? sì per me bene perché era prima mio marito è venuta prima lui e io ho trovato mi sento bene qua avete avuto difficoltà? sì un po' all'inizio sì diciamo se veniamo da un altro paese si troviamo qua nelle altre persone altra lingua e poi pian piano siamo trovati bene qua a Lomelo con le persone con la lingua invece? la lingua va bene io sono italiana ho imparato l'albanese è benissimo lo parlo benissimo va bene abbiamo recuperato il servizio di politica relativo a Vigevano con la prossima riunione del Consiglio Comunale finiti i lavori di ristrutturazione nell'aula consigliare torna a riunirsi lunedì alle 18 il Consiglio Comunale a Vigevano il cantiere aveva causato le proteste della minoranza che nelle scorse settimane aveva bacchettato la giunta sulle poche riunioni convocate e sul rinvio della seduta a causa appunto dei lavori in programma il punto principale all'ordine del giorno è la modifica del regolamento sull'occupazione del suolo pubblico in pratica tutti gli spuntisti del mercato settimanale si troveranno a pagare 20 euro ogni volta indipendentemente dalle dimensioni del proprio banco poi a seguire spazio le emozioni presentate dal gruppo consigliare azione Vigevano Civica l'una riguardante la proposta di un piano di raccolta rifiuti basato sui cassonetti intelligenti l'altra sulla sicurezza con cui si chiede un presidio fisso serale delle forze dell'ordine in piazza Sant'Ambrogio e nelle altre zone della movida Vigevanese con l'estate ormai alle porte infine il Partito Democratico il Movimento 5 Stelle il Polo Laico Vigevano in azione chiedono all'amministrazione comunale l'istituzione di una commissione speciale per il recupero e la valorizzazione dei beni strategici per beni strategici si intendono i cosiddetti contenitori gli edifici dismessi di cui da anni la minoranza congiunta chiede un piano di recupero come ad esempio il Colombarone la frazione Sforzesca e l'ex macello di Piazza Volta prosegue a Pavia l'iter per realizzare una nuova residenza che possa ospitare i bambini che vengono a Pavia per curarsi fare terapie oncologiche e le loro famiglie Una nuova struttura per ospitare i piccoli pazienti di oncologia del Policlinico San Matteo e le loro famiglie avanza il progetto che vedrà sorgere il complesso in via Cerise zona nord di Pavia l'edificio sarà realizzato quindi nell'area che era stata precedentemente individuata per ospitare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e che era stata osteggiata dai residenti nei giorni scorsi il comune ha proceduto all'affidamento diretto dell'incarico per la realizzazione del rilievo plano altimetrico dell'area di circa 17.000 metri quadrati uno spazio in cui i piccoli pazienti possono vivere durante i periodi delle cure l'amministrazione del Mezzabarba ha ricevuto un finanziamento da un milione di euro dal governo centrale per progettare la nuova struttura prevedendo che l'intervento sia realizzato mediante l'attivazione di un concorso di progettazione in due fasi con procedura aperta al fine di pervenire nel minor tempo possibile alla realizzazione dell'opera il comune di Pavia e il Policlinico San Matteo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa alla fine di settembre del 2022 per dare attuazione pratica alla disposizione di legge il rilievo plano altimetrico di apprezzamento del terreno sarà realizzato da uno studio di Como tutti gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati al Mezzabarba entro 20 giorni dopo la comunicazione di affidamento dell'incarico partirà questo fine settimana a Garlasco un ciclo di incontri con gli autori del territorio servizio si chiama Garlasco scrive gli scrittori garlaschesi si raccontano la nuova proposta culturale della biblioteca di Garlasco domenica 2 aprile alle 16 l'incontro nella sala polivalente in via Santissima Trinità organizzato dall'assessorato alla cultura e dalla biblioteca Mino Milani in cui ogni autore locale che ha scritto almeno un libro racconterà la propria esperienza di scrittore sono stata avvicinata da tanta gente attirata dalla locandina che mi ha consegnato dei manoscritti delle poesie ma anche io ho scritto va bene se è così successo lo ripeteremo poi magari il prossimo anno per ora ci limitiamo a quelli che hanno pubblicato almeno un libro in cantiere anche altre iniziative il 14 aprile la presentazione del libro su Mino Milani a cui intitolata la biblioteca il 16 il volume di Giuseppe Zucca i giusti di Lomellina dedicato ai collaboranti italiani nell'aiuto ai prigionieri alleati fuggiti dai campi di lavoro durante la seconda guerra mondiale l'obiettivo è fare cultura anche al di fuori del teatro Martinetti è stato veramente bello e piacevole aderire a questa iniziativa che insieme al comune di Garlasco abbiamo portato avanti con l'associazione diversamente noi e ringrazio ancora una volta Luisa appunto per la bella idea per un'idea semplice ma molto originale molto di intrattenimento molto fresca anche innovativa per certi versi cioè unire l'autorialità locale all'interno di un evento dove gli autori possono confrontarsi quindi possono trovarsi possono raccontare la propria esperienza e confrontarsi rispetto a quello che è stato a quelli che sono stati i propri percorsi editoriali quindi è una bella idea un'idea di confronto un'idea di cultura un bel pomeriggio insomma locale ma nello stesso tempo di cultura a Palazzo Mezzavarba a Pavia una mostra per raccontare da uno sguardo in solito l'immigrazione il tema dell'immigrazione sempre più attuale e le cronache di ogni giorno raccontano storie diverse dalle traversate in mare in fuga dall'Africa alle persone che scappano dalla guerra in Ucraina all'interno del programma dello sportello antidiscriminazioni del comune di Pavia l'associazione Babele Onlus ha organizzato una mostra fotografica realizzata allo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema delle radici del viaggio e dell'identità dei rifugiati abbiamo chiesto ai nostri utenti dei centri di aggregazione piuttosto che degli sportelli famiglia che gestiamo nelle periferie della città se avessero voglia di condividere con noi un ricordo un'emozione legati al momento della partenza o comunque un qualcosa che li riportasse un po' che li tenesse legati al loro paese di origine che sicuramente anche a distanza di anni rimane nel loro cuore e nella loro testa e quindi questi oggetti sono i più vari sono oggetti molto semplici o molto tradizionali e sono appunto utensili da cucina piuttosto che bandiere nazionali piuttosto che vestiti tradizionali o vestiti che si usano in momenti specifici per la in occasioni specifiche per la loro per la cultura di appartenenza e quindi li abbiamo raccolti poi li abbiamo fotografati abbiamo chiesto a loro di lasciarci un pensiero su questi oggetti la mostra inaugurata nei giorni scorsi resta aperta al piano terra di Palazzo Mezza Barba fino al prossimo 4 aprile si tratta di 15 fotografie che ritraggono 15 oggetti dal forte significato affettivo e dal profondo potere evocativo i rifugiati che hanno partecipato all'iniziativa provengono da tutti gli angoli del mondo l'evento è stato patrocinato dal comune di Pavia ci fa pensare a quanto sia stata la sofferente le difficoltà di chi ha dovuto lasciare il proprio paese per trasferirsi altrove guardando gli oggetti a cui queste persone sono più legati gli oggetti che li riportano alla loro famiglia che magari hanno dovuto lasciare oggetti che li riportano alla loro cultura alle loro abitudini che in parte conservano ma rispetto alle quali hanno dovuto comunque adattarsi anche a modi di vita diversi quindi una mostra delicata perché non ci dà l'impatto di quelle che invece possono essere le sofferenze anzi che sono le sofferenze legate all'intraprendere un lungo cammino ci fermiamo qui vi lascio al resto della programmazione di Milano Pavia TV arrivederci di Milano Pavia TV a Grazie a tutti.